Unione Industriali di Napoli ed Università Federico II insieme per avvicinare i giovani studenti al mondo del lavoro. Il tutto attraverso un progetto Challenging Education, giunto quest'anno alla sua quarta edizione di cui ci ha parlato il presidente del gruppo giovani dell'Unione Industriali di Napoli, Susanna Moccia, il consigliere delegato all'Education, sempre del gruppo giovani dell'Unione Industriali di Napoli, Gaetano Liquori e Chiara Di Gennaro. responsabile delle relazioni esterne dell'azienda associata al gruppo giovani che ha aderito al progetto La Di Gennaro SPA. Vediamo. Noi siamo qui oggi per la giornata conclusiva del Challenging Education. Siamo alla quarta edizione, per fortuna i tre anni precedenti i ragazzi sono sempre stati entusiasti di questo progetto e il professore Gianluigi Mangio e Mercurio hanno voluto fortemente che quest'anno ricominciasse questa attività. avere l'incontro tra i giovani imprenditori e l'università è importante. Il legame che deve esserci tra queste due istituzioni, se così le vogliamo chiamare, non deve mai finire ma deve essere sempre più forte e sempre più saldo perché i ragazzi hanno bisogno di capire cosa c'è da quell'altro lato della scrivania perché anche noi fino a qualche anno fa eravamo studenti. Quindi essere sempre al corrente e capire insieme come affrontare il futuro è importante e far vedere noi tutti i giorni l'impegno che abbiamo nell'applicare quello che conosciamo delle nostre attività lavorative ci rende orgogliosi e fa sì che i ragazzi possano cominciare ad essere imprenditori di si stessi e qual è la cosa migliore se non aprire le porte alle nostre aziende e far capire che noi ci siamo. Vogliamo che i ragazzi cominciano a masticare il mondo del lavoro e perché no avere qualche idea in più sulle soluzioni a qualche problema che per noi può essere d'attualità mentre per loro può essere banale, dà la possibilità a tutti di avere un collante e un legame sempre più forte. Sì, questo è un progetto ben delineato ed è oggi alla sua quarta edizione. Abbiamo sempre la presenza della Federico II e degli studenti da Federico II che visitano un'azienda con un occhio molto critico analizzano il mercato e si trovano a risolvere questo caso postogli dall'imprenditore, dal giovane imprenditore. Quest'oggi abbiamo la Digenaro S.p.A. che presenta il proprio caso di problem solving agli studenti. Per ora abbiamo visto delle risposte di ottima qualità, vedremo poi che cosa altro ci proporranno e sicuramente l'azienda per ora è veramente accattivata da queste loro risposte. È stata una bella esperienza. Diciamo che noi siamo attivi in questa iniziativa in quanto già lo facciamo con i ragazzini più piccoli. Quindi apriamo regolarmente l'azienda per poter sensibilizzare i ragazzini sin da bambini al tema dei rifiuti in campagna, soprattutto in un territorio così difficile. Ora invece è stata un'ulteriore bella esperienza in quanto abbiamo aperto le porte a delle persone, dai ragazzi più grandi, quindi della Federico II. E' stata una bella esperienza perché io pur avendo fatto un master in ambienti e energie rinnovabili i rifiuti non è stato un tema molto trattato. Quindi è stato bello poter parlare del mio settore ai ragazzi e far capire l'importanza di fare una buona raccolta in campagna, di essere attenti, non sprecare nulla e quindi sensibilizzarli. Così facendo forse penso che ad oggi sono un po' più si sentono un po' più responsabili sul tema rifiuti.